Ragazzuoli e ragazzuoli, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi vi porto un gameplay davvero molto particolare che vi giuro che mi ha fatto arrabbiare tantissimo perché mentre che stavo giocando insieme a Queen Georgia in rank della nuova season di Fortnite ci siamo imbattuti in due giocatori che stavano bug abusando con un glitch veramente disgustoso che sembrava quasi che stessero hackerando. Il glitch ragazzi consiste nell'entrare nel bidone della spazzatura con le ali e questo vi permetterà di rimanere in volo per tutto il tempo a un'altezza così tanto elevata che siete letteralmente invisibili e inittabili. Chiaramente ragazzi questo glitch non usatelo, non provatelo perché vi porterà a essere bannati infatti questi giocatori li abbiamo segnalati da subito quindi ragazzi vi andrò a dimostrare come grazie alla mia strategia siamo riuscite comunque a cercare di evitare questi due giocatori per poi arrivare alla fine e insomma sarete voi a gioticare quello che è successo. Prima di cominciare con i video ragazzi però vi invito a lasciare da subito un bel pollice all'insù iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per non perdervi nessun video inoltre vi ricordo di utilizzare il codice creatore croatomist nello shop di fortale se volete supportarmi e se fate una story se mi taggate ovviamente vi verrà ripostata e vi manderò anche un vocale in privato per ringraziarvi. Inoltre come ultimissima cosa ma forse la più importante se volete allenarvi e diventare sempre più forti con le costruzioni vi invito ragazzi a giocare alla mia mappa 1v1 ranked vi lascio qui il codice della mappa nella mia mappa troverete tantissime cose come tutelarmi della nuova season nel mentre che comunque vi allenerete e rankerete andrete a farmare tantissima esperienza e in più ragazzi vi ricordo che coloro che arriveranno ad arrial quindi il rank massimo all'interno della mia mappa vinceranno tantissimi premi come la richiesta da me c'è su fortnite il VIP promesso nel mio canale un abbonamento e regalo sul mio canale oppure vi regalerò il pass battaglia o una shoppazzatina su fortnite quindi mi raccomando allenatevi rankate e cercate di impegnarvi al massimo ora però ragazzi non perdiamoci più in chiacchiere ed è il momento di godersi questo bellissimo gameplay contro questi due hacker barra bug abuser vi auguro una buona visione se c'è un team va bene se ce ne sono due e sono meglio di noi andiamo via ho un big si 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 un icaro ma dove? era un uccello no era un uccello forse ma se era un icaro le vedi la licona? no no ma proprio distante ma sai che c'è quel bug che se ti lanci tipo nel cestino con icaro voli fuori dalla mappa è lui vedi 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 impicchiata è un bug e ti fa volare fortissimo guardalo non hai capito cosa? dove è andato? non abbiamo pure è andato tutto giù impicchiata giù mi andiamo a prendere a me oggi mi ha fatto uno sta cosa a me c'è chi non lo ah ma è un billy verde cosa dici? è un billy verde con i pantaloni verdi sta arrivando non ci credo sapevo vedi eccolo la ricaro l'hai perso? ti love me? yes I know billy you're mine porr splash ora puoi prendere una verità in roba ma sei sicura di questa cosa? si ma come stai lì dopo l'ultimo che hai buttato? con i caro? non lo so se con la ziplano ricaro ma fidati lui sarà qua da qualche parte me lo sento a meno che non è andato mentre io l'ho cecchinato ma perché la ziplano non l'ho pure vista prendere no io l'ho visto proprio lì dalla struttura però l'ho visto vale splash non c'è un container qua ma vola 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 ha preso la scheda 7-5 a mo? ma sta bug abusando eh te l'ho detto vedi te l'ho detto chicca l'ha fatto anche prima mi servono le splash chicca se le hai queste cose da riportare però vale questi che bug abusano avrò fatti una bacca ci guardano sono zappi sono zappi sono zappi solo là te l'ho detto che bug abusava chicca ma lo fanno tutti ormai me l'ha fatto uno oggi in solo e dall'alto mi ha tirato ma com'è che si fa scusa dall'alto mi ha tirato zeus ma io non ho capito come si fa se è quella cosa lì cioè no era in acqua quindi no non può essere con un cestino che schifo però veramente questo è quella paella di tiktoker che fanno i video hai visto l'auto no? era loro sti billy di m***a si lo viste come cazzi mi ha detto fare billy con i pantaloni militari cioè billy è solo con un tipo di pantalone ragazzi lo vedo dov'è? ma mi sa che sono quelli col bot sono quelli col bot ho visto il bot la scusa chicca devo farmi il kit c'è il cavo? eh si io lo voglio il cavo che cure porti? ho un kit basso portami il mio kit portami il mio kit bianco me l'hanno rubato me l'hanno rubato da me? 5-7 quasi crack bravissima dai zi ma me l'hanno rubato anche questo? no l'altro no l'altro faccio il kit se riesco chicca ho fatto una cecchinata che ti giuro ti giuro non hai idea zio porco mi prego lippatemela se potete è billy a mo è billy a mo è billy quello che va quello che va bannato quello che bagabusa esatto ti levo l'albero ti levo l'albero l'ho visto miss guarda che bagabusa guarda che schifo mandorna che pelo che schifo sto qua dobbiamo prendere sto co*****a ci serve uno st***o animo quello bagabusa guarda ragazzi questo qua che bagabusa comunque non potete giocare così ragazzi non potete giocare così anche lui tutte e due no vabbè no vabbè ma che schifo ma che schifo che schifo questi ora se li deportiamo li vengono bannati instant ecco li scendono nonna ti giuro eccolo eccolo guarda bagabusa di nuovo boom finito nell'oblio non si sa dove l'altro scende questi non moriranno mai esatto 200 morto madonna ho l'impulso fai il barilone fai vai vai ah non mi si attacca non mi si attaccato chicca cerco di venire su sei sola eh per il momento mi sta arrivando una macchina di passi è qua da me è qua da me calcola sotto è sceso sta scendendo qua sotto info 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 qua sotto il ponte va avanti eccolo è lì dietro là c'è uno sta salendo sta salendo con la zip è salito non salirò di zipline se no muoio è qua sopra il ponte però l'hanno chicchinato davvero? si è andato te bianco mo bussalo bussalo bianco a 30 HP nemmeno bravissima buono prenditi tutto c'erano quelli che cechinavano dalla sepa devo andare a sferra che mi ha rotti oh è sotto occhio col cecchino vieni con me vieni con me devo andare in quella montagna vieni non buildo più eh jump e basta vieni Nike se riesci se non riesci lascia stare vogliono uscire questi vado vai knock sono i Nike sono i Nike mi riuscirà knockato bravissima ma chi è quello che fa così Billy sono i Billy Nike che è così knockato bravissima chicca ah sono quelli che bugabusano chicca sono quelli che bugabusano sì no i kit quanti kit hai è un kit solo l'ho appena fatto perché ero morta ragazzi se perdiamo è perché sono quelli che stanno citando eccoli li vedo dai ragazzi ma cosa sto giocando divido già i Zeus impossibile dai ragazzi ma cosa sto vedendo ma cosa vedo chicca perderemo per questa situazione sì lo so che perderemo perdiamo perché stanno bugabusando sì lo so ci sono dei barili lì chicca ok ricordiamoci di questa informazione è importantissima dai ragazzi ma la sto vedendo ci credo ci ci non devono guarda non ho un kit ho un kit un kit un kit un kit un kit guarda se c'è qua poi devi tenere gli occhi aperti che se ci jumpano dobbiamo essere pronte qua abbiamo i barili li mettiamo già one shot no no devo stare a fare la coppella appena senti Zeus qua due barili due barili no 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 la zona non devi toccare non fare impulso non fare impulso non fare impulso eh no perché se mi mangiù kit 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 flash le prendo spando spando non devo prendere i danni non devo prendere i danni no non prenderli vende torno dopo torno dopo torno dopo torno dopo eccole 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 occhie si avvicinano cosa devo fare io dimmi un attimo nulla nulla tu non puoi fare nulla devi solamente non bloccarmi e poi ci penso io no no dammi tutti i ma dammi tu ovviamente morirai non ti preoccupare è normale vai tranquilla 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 tanto non hai non hai white tu per me no no non ho niente purtroppo non ho white purtroppo niente arrivano arriva sta scendendo sta scendendo sta scendendo si è al kit però forse da farsi sotto se l'hai lanciato sotto te la vinco te lo giuro te la vinco la vinci? che cazzo il bagabuser del cazzo godo fagli il loser ah cavalcata let's go cioè ragazzi questi qua stavano bagabusando che avevano il volo il volo infinito con Zeus me l'hanno fatto anche a me oggi in solo e non potevo non potevo fare nulla well beijo 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 Grazie a tutti.